Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dalla diacona Carola Stobeus. Saluto tutte e tutti voi che vi siete collegati a Radio Beckwith Evangelica per partecipare a questo culto in occasione della Domenica delle Palme. È Dio che ci accoglie. Prima che noi lo cerchiamo ci ha cercati e prima che noi lo conosciamo ci ha conosciuti. Prima che fossimo presenti ci aveva convocati. Riceviamo proprio da Lui la grazia, la gioia e la pace nel nostro cuore e nella nostra vita. Amen. Preghiamo. Dio di grazia, tu ci hai dato la mente per conoscerti, il cuore per amarti e la voce per cantare le tue lodi. Riempici del tuo spirito così che possiamo veramente amarti e amandoti possiamo vivere pienamente nel tuo servizio che è perfetta libertà. Aiutaci a dirti oggi e in ogni giorno l'antico canto della gioia, della speranza, della fiducia. Benedetto il Re che viene nel tuo nome, osanna nei luoghi altissimi. Amen. Giubilate tutti e tutte e servite Dio in ogni modo. Ai cortili suoi venite e cantatelo denanzi a Lui. Il Signore, Dio di grazia, di clemenza è per sempre. Giubilate, giubilate, giubilate al Signore. Il Salmo 118 viene indicato per la lettura di questa domenica. Noi vogliamo condividere con voi una parafrasi di esso. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Con i rami di palma prepariamo la strada per te, affinché la bontà entri nella nostra vita. Tu sei la nostra speranza e ci rafforzi con il tuo amore. La tua bontà supera il tempo e ci permette di vivere. La tua grazia abbraccia l'universo e ci conduce fuori dalle ristrettezze. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Quando restiamo fermi o ci fermiamo e non riusciamo a fare neanche un passo avanti, tu ci conduci con te sulla strada verso Gerusalemme, dove la giustizia e la pace si baciano, nel sogno e nella realtà. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Perché ogni giorno che Dio fa è buono. Rallegriamoci, perché Egli cerca ancora coloro che hanno fame di sete e di giustizia e continua a farsi strada verso coloro che hanno ancora fame di pace. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Signore, tu sei la pietra angolare del mondo, la speranza per le anime ingessate. La tua bontà sopravvive al giorno e il tuo amore sovrasta le ombre della nostra vita. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Il tuo nome è Osanna. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Dio, nostro padre, nostra madre, tu vieni a noi nella novità e noi andiamo a te con le nostre abitudini. Tu vieni a noi nella santità e noi andiamo a te con le nostre abitudini. Tu vieni a noi nella santità e noi andiamo a te con le nostre debolezze. Dacci la gioia in te per scoprire la tua via in Gesù Cristo, il Signore risorto. Egli ci guida verso di te in novità di vita per farci vivere nella gioia dello Spirito. L'amore che sfida i secoli. Amen. Leggiamo da Giovanni, capitolo 12, i versetti da 12 a 19. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme, uscì a incontrarlo e gridava. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto. Non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo Re viene, montato sopra un puledro d'asina. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di Lui e che essi gliel'avevano fatte. La folla, dunque, che era con Lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che Egli aveva fatto quel segno miracoloso. Perciò i farisei dicevano tra di loro. Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Quando molte persone sono insieme, si crea una dinamica propria, che si tratti di uno stadio di calcio o di un evento politico. L'individuo scompare. La folla si fonde in un'unità sola e ha il potere di far sentire la propria volontà. Ma la folla è anche molto ricettiva nei confronti di una persona che la conduce o la guida. Anzi, ha bisogno spesso una persona del genere. E chi è dotato di questo talento può facilmente appropriarsene e dirigerla secondo la sua volontà. Io devo dire che le folle mi creano sempre più disagio. Se penso alle folle osananti, mi vengono in mente l'immagine di folle che acclamano l'IDA per politici. Di ieri e di oggi. Avete presente quell'immagine delle folle che osanavano Hitler? O che si radunavano prima di un comizio di Mussolini? Anche Comeni, in altre parti del mondo, aveva queste folle osananti. E perché no, anche Trump. Folle che sembrano manipolati. Essere membro di una folla toglie praticamente la volontà personale. Si è parte di un movimento che ha vita propria. In qualche modo mi sembra che dirresponsabilizza. Io osservo queste folle con preoccupazioni. Perché l'uso della violenza spesso non tarda ad arrivare. Gerusalemme è piena di gente che era venuta per l'eminente Pasqua ebraica. Quella festa in cui si cercava a tutti i costi di essere presente a Gerusalemme. E ora lì si diffonde la notizia, anche senza radio, social media e internet, che Gesù sta arrivando proprio lì. Devono essere circolati molti discorsi e racconti su Gesù, delle sue guarigioni, della resurrezione di Lazzaro, Magari anche delle sue dispute con i farisei. Perché in men che non si dica la folla si muove. Esce da Gerusalemme per accoglierlo, per acclamarlo, salutarlo, addirittura con rami di palma e riconoscerlo come nuovo re d'Israele. L'asino sul quale si presenta non li disturba. Perché conoscevano l'antica scrittura. Esulta grandemente, o figlia di Sion. Manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso. Umile, ingroppa a un asino. Sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Il re viene da voi. Povero, ingroppa a un asino. La bicicletta di oggi per intenderci. Non con la macchina, con la bicicletta. Che tipo di folla è questa che lo accoglie, che li va incontro? È una folla che si sarebbe anche sollevata contro lo sfruttamento e l'oppressione dei romani? Che cosa vuole questa folla? Protesta o sensazionalismo? Gesù avrebbe potuto scatenare una rivolta con questa folla? Sarebbe stato in grado di iniziare una ribellione? Il testo ci dice che lo acclamano. Riconoscono Gesù come re, perché ha appunto risuscitato poco fa Lazzaro dai morti. E questa capacità speciale lo legittima appunto come persona speciale e quindi come guida, come uomo potente del momento. Gesù sicuramente avrà sentito queste enormi aspettative da tutti coloro che sono intorno a lui. Se ci fossimo anche noi, in mezzo a quella folla, con la gente che applaude intorno a noi, sperando in un cambiamento in meglio, non saremmo forse anche noi contagiati ed alzeremo le braccia per osanarlo, per acclamarlo? Quello che sconcerta è che, poco tempo dopo, l'uomo che desideravano come nuovo re, come capo di una rivolta, di un cambiamento radicale, verrà condannata. Sempre con l'acclamazione della folla, preferendo a lui un criminale. Sembra che i farisei abbiano giudicato male la situazione. Il popolo, da un lato, applaude il giusto che entra a Gerusalemme sul suo asino, ma applaude più tardi al potere, al potere che esige la sua morte. Applaudono più tardi persino al suo dolore e alla sua morte. In mezzo, cosa è successo? Pensate alle campagne elettorali. Le soluzioni semplici e facili dei problemi in quel momento sono molto richiesti. E coloro che sono bravi, che sanno parlare bene, fare promesse credibili, fare proposte di miglioramento che siano altrettanto indolore per tutti e fanno anche uno bello spettacolo, hanno sempre le migliori possibilità di essere poi eletti. Solo se le promesse non vengono mantenute, poi, a volte, la folla protesta. Con Gesù il cambiamento è stato molto più rapido. A quanto pare, in pochissimo tempo, la gente era profondamente deluso da Lui. Perché? Perché Lui non aveva fatto grande promesse. Però il popolo amano i dei forti. Tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, aiuta te stesso. Volevano o cercavano di riconoscere il nuovo re dal suo potere, non dalla sua bontà o dalla sua umiltà. Si erano fatti un'immagine di Gesù che egli non soddisfaceva. Non solo allora. Nel corso di molti secoli di storia della Chiesa, l'immagine che le persone avevano di Gesù è cambiato. Spesso è stata imbrigliata in interessi personali e anche in interessi dei potenti. Qual è la mia, la nostra, la tua immagine di Gesù? E l'amico è aiutante? Forse un po' come il cane da guardia della mia buona condotta? È un modello o piuttosto un accusatore? È potente o è impotente? Un uomo buono, giusto o figlio di Dio? Può darsi che la mia immagine di Gesù sia cambiato anche nel corso degli anni? Ma forse anche proprio perché la gente tende ancora a usare Gesù per i propri interessi. Come fece la folla a Gerusalemme? Perciò penso che sia importante di porre la domanda ancora e ancora. Qual è l'immagine di Gesù che abbiamo, che ricerchiamo? Siamo quella che vorremmo seguire? Lasciamo parlare i testi antichi e da quelli emerge la forza e la vittoria di Gesù non è quella di dominio sugli altri, ma di essere libero, di agire indipendentemente dalle loro aspettative e quindi di rimanere fedele. fedele a sé stesso. Non vende il suo essere perché, abbagliato dal potere e il guadagno personale. Io non so se questo sia stato sempre facile per lui, mantenere questa fedeltà a sé stesso e a Dio. Sappiamo ancora oggi quante persone potenti abusano del loro potere. E sappiamo anche che altre persone usano il loro potere su di noi, cercando di toglierci una parte della libertà. Ma forse anche noi, forse anche io, sono quella che toglie la libertà agli altri? Forse senza volerlo o senza saperlo? Per paura? Paura di perdere affetti? Gesù ci ricorda anche oggi che noi siamo chiamati alla libertà. La libertà di non essere dominati e la libertà di non dominare gli altri. Siamo chiamati a sbarazzarci del senso di colpa e di ricominciare da capo. Siamo chiamati alla libertà di perdonare gli altri e le altre. Siamo chiamati alla libertà della gentilezza. Gentilezza verso noi stessi e verso gli altri. E siamo chiamati alla libertà tutti insieme. Di cantare canzoni di vita anche sulla tomba. Siamo stati chiamati a prenderci del tempo per praticare, per vivere questa libertà più e più volte. Non diventa mai un nostro possesso. Rimane sempre un dono. Gesù ha percorso questo cammino di umiliazione, di sincerità. Il suo amore è stato più forte del crocifiggilo delle persone intorno a lui. La potenza creatrice di Dio lo ha fatto uscire persino dalla morte. Forse non sempre noi riusciamo ad aggiungere queste cose a ciò che accade nella nostra vita o nella vita delle nostre famiglie. La libertà del bene non sembra poter essere coniugata con la necessità della sofferenza e del dolore. Eppure Gesù ha scelto questa strada consapevolmente in tutta libertà. E solo per questo sappiamo che Dio è molto vicino a noi nella morte. Tuttavia, la morte rimane uno scandalo. Perché è imprevedibile e sembra radicalizzare la libertà. Per questo sono contenta che Gesù non si sia lasciato incoronare come il re del potere, ma come il re della bontà, che canta con noi il canto della vita e che quando noi tacciamo continua a cantare per noi. Amen. Finché confido nel mio Signore, nessun timore mi turberà. Sul buon cammino l'amor divino mi condurrà. Nella tristezza e in ogni prova e in ogni prova e mi rinnova la sua bontà. Signore, noi vorremmo essere strumenti nelle Tue mani, anche se nulla abbiamo da offrirti. Ma tu hai scelto le cose deboli di questo mondo, le cose che non sono. Scegli anche noi, che siamo deboli e fragili. Donaci la passione per l'Evangelo di Gesù Cristo. Insegnaci ad osare vie nuove e ad essere creativi, perché le persone che tu poni sul nostro cammino giungano a conoscerti e ad amarti. Ti preghiamo per tutte le persone che si impegnano per la giustizia, la pace, la riconciliazione tra i popoli, tra le religioni, tra le nazioni. Nel nome di Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come è in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debituri. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 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 Ci salutiamo con queste parole. Il Signore ci benedica e ci guardi. Il Signore faccia risplendere su di noi il suo volto e ci sia propizio. Alzi il Signore il suo volto su di noi e ci dia la pace. Andiamo in pace. E il Dio della pace sia con tutte e tutti noi. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dalla diacona Carola Stobeus. Amen. Grazie. 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 Grazie.